5 euro, Windsurf Doda quando tutto è pronto per il via via gli uomini a posto dietro, partiti Carbone che va in vantaggio su Penampaparagia, Ginsencoffi e Enviglie poi in quinta posizione Olman con di fuori Printeris Penampaparagia a forza su Carbone, Ginsencoffi precede Enviglie e Olman Printeris, poi Spartivento Chia, Terra che trema, Windsurf, Cocas, Rosa Spera qualche contatto prima della curva che fa sì che i concorrenti si allunghino in coda Performance Penampaparagia sfondato su Carbone, Ginsencoffi, Olman e Enviglie di fuori Spartivento Chia, poi Rosa Spera e Printeris di fuori Terra che trema, che avvicina Fire of Deborah con Spartivento che va su Penampaparagia che provava a rifiatare Carbone e Ginsenco che sono lì con Olman e Rosa Spera, Enviglie di fuori con Terra che trema, Windsurf, Doda poi Shababic che procede Fire of Deborah e Top Experience, scappano quei due davanti con Penampaparagia in vantaggio in seguita all'esterno da Spartivento Chia, Carbone, Ginsencoffi, Enviglie ed Olman Rosa Spera in corda, Printeris con all'esterno Terra che trema, che si trascina dovrebbe essere Van Cook che fa la quarta corsia in anticipo su Top Experience scappa Penampaparagia, stavolta a 600 metri al palo prova la soluzione di forza allora Carbone, Spartivento Chia, Ginsencoffi, provano l'inseguimento Olman, Penampaparagia in fuga si è girato anche il suo interprete, vedere dove sono gli altri tutti disposti a ventaglio, Carbone, Ginsencoffi, Enviglie, Windsurf, Doda Terra che trema, provano ad andare a prendere Penampaparagia che però è ancora vitale, ci prova Enviglia per andarla a prendere con Windsurf, Doda, Terra che trema e Top Experience se Enviglia aggancia Paparagia che si mantiene in vantaggio Enviglia ci prova, lo scatto di Enviglia a fil di palo Enviglia, Windsurf, Doda, Penampaparagia per Cristiano Fais e Domenica Dolò, perfetto Andrea Dejas in sella ad Enviglia che va a prendere Penampaparagia che si accuccia in fondo ed è preda anche dello spunto di Windsurf, Doda 2, Enviglia, 7, Windsurf, 4, Penampaparagia quarto, alla fine dovrebbe essere Top Experience che finisce forte ma non basta 2, 7, 4, 3, quinto è Terra che trema vittoria quindi di Cristiano Fais di Cristiano Fais Grazie a tutti